Sì, reverenda madre. Lascia che la luce di Inarius bruci ogni malvagità, che la tentazione non ti allontani dal suo sacro fulgore, che la rettitudine escluda corruzione e peccato. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. Respingi l'oscurità affinché resti solo la luce. È lui che viene da Nevesc. Sì, reverenda madre. L'Orat non ti ha accompagnato. Mi ha mandato avanti senza di lui. Fidarsi di quel vecchio è stato un errore. Cosa può mai esserci di più importante? Lilith. Allora, lo sai. Uno dei nostri cavalieri ha avvistato dei demoni nella Valle Burrascosa. Pare che la descrizione corrisponda all'avvistamento di Nevesc. Se raggiungessi Jelesna e ti occupassi di quello che sta succedendo, otterresti la gratitudine della Cattedrale della Luce. Avevo pensato di inviare L'Orat, ma... Non assolve mai al suo dovere. Con o senza L'Orat sarà fatto il volere di Inarius. Tieni, prendi il rapporto del Cavaliere prima di andare. Non posso farlo qui. Reverenda madre, ci segnalano degli avvistamenti demoniaci. Una donna con le corna vicino alla miniera di Jelesna. Eseguita ispezione di routine. Ancora nulla. Inviato il prete con una scorta di cavalieri. Farò rapporto quando troveremo qualcosa.